Posso aprirlo io? No. Che cos'è? E' di Shiglam. Eh? Adesso lo provo? Sì, bello, bello. Sì, lo so. Andiamo a... E buonasera a tutti ragazzi, bentornati sul nostro canale con un nuovo video. Oggi non so cosa facciamo perché decide Dani. Allora, raga, in pratica mi è arrivato un pacco da Shane. Che bello, sono stra contenta. Scusa. Sono stra contenta. Ah. Adesso ve lo faccio vedere. Cioè, allora, io l'ho già aperto, ma Franci non lo sa. Ah. Eccolo qui. Quindi come abbiamo fatto con Temu il video delle 2500 visualizzazioni? Sì. Se non l'avete visto il video andatevelo a vedere, ma tanto l'avete visto sicuramente perché 2500 visualizzazioni è il video con più visualizzazioni sul canale. Hai visto? Assurdo. Bene, adesso apriamo, io provo i vestiti e Franci mi dà un voto. Sì, prima li voglio vedere. Eh no. Come no? Se li faccio vedere indossati. No, 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 no. Voglio prima vedere, sì. Ok. Questo è uno. Questo è uno. Uno alla volta, intendo questo, dai. Questo è due. No, no, tutti li tiriamo fuori. Tutti. Ma cos'è sta roba? Un secchiello per andare al mare? Ma tu sei al mare. Allora, uno, due, tre, quattro, quanti ne hai presi? Cinque, sei, sette, otto. Sei. Facciamo vedere uno alla volta, se no qua è un casino. Allora, iniziamo con questo. Che, in pratica, devi aiutarmi. Era forse così, aspetta. No, 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 scherzavo, scherzavo. Attacca, stacca questa. Attacca, stacca? Sì. Ecco, facile. No, che si rompe così. No? Ti ho detto, stacca questo. È bellissimo, dopo adesso ti faccio vedere. Dopo adesso? Cos'è? Uno standard? No, è una nota. È una madonna. È un poster con la nota musicale. Quindi non sono solo vestiti, anche accessori, robi. Sì, certo. Ok. Boh, questo a primo impatto. Quanto gli dai? Un otto, bello. Guarda, questo mi serve per te. Aia. L'ho usato io per ti mettere in testa, Dani. No, no. È mio. Basta. Andiamo. È mio. Meglio se stai zitta in inglese che non è. Ragazzi, adesso andiamo al prossimo. È sempre una cosa che mi serve. Posso lanciarlo questo, no? Sei pazzo? Vedi che è involucrato. Involucrato? Involucrato. Magari in cielo fanato. Vuole uguale. Posso aprirlo io? No. Che cos'è? È di Shiglam. Eh? È una cosa di... Ma come parla questo? Il Shiglam? Shiglam. Ah, la crema pasticchiera. Non chantilly. Se l'apro io che se no... Ma è leggerissimo. Posso aprirlo? No, non staccarlo, non romperlo, eh? No, no, no. Franci, l'hai rotto? Bravo. Cos'è? Ah, la pallina di Natale da prendere sull'albero. No, no. In pratica questo aggeggio dovrebbe sparare i brillantini, perché qua ci sono i brillantini e dovrebbero spararmeli sulla pelle. Se non voglio provarlo, perché ho paura. No. No, voglio solo... Questo qua, cosa? Schiacci, cosa? Schiacci ed escono. No, non escono. Sì, non escono, perché c'è il coso qua, è bloccato, capito? Ah, che bello. Un dieci. Sembra una granata. La lanciamo? Oh, cinque euro. Cinque euro? Sì. Dopo dobbiamo dire anche i prezzi, eh? Questo, non lo so, cosa serve? Che non ho capito niente. A farmi brillare la pelle. Bah. Boh, sì, dai. Boh, esteticamente bello. Quindi, sette, dai. Il secchiello per il mare. Ah, qua c'è il bottino. Si deve ruotare, magari. Ma leggi, Deni. Oh, l'ho rotto. Oh, guarda che bello, però. Aspetta, ti devo mettere lo giusto, che... No, va bene così, chi se ne frega. No, è bruttissimo, se no, mi dà fastidio. Che la scritta è qua, è qua, è qua, no. Ma no, così? No, no. No, 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 no. Bisogna farlo bene, perché se no è brutto. Ecco fatto. Voto otto. Bello. Adesso passiamo ai vestiti. Dopo li provo. Intanto abbiamo questo. Bellissimo. Lo so. Nero. Ma è quello che metterai al concetto? No. Vedete? Quale metti al concetto? Perché è aperto dietro allora la nuvole. Quale metti al concetto? Un altro. Fatti gli affari tuoi. Adesso lo provo? Sì, bello. Bello. Se la so. Oh! No, no, no. Così, guardate la magia. Oh! Ma un po' freschetto, perché dietro è aperto, quindi mi sto congelando. Ragazzi, questo è il vestito, molto bello. Sì. E niente, Dani, torna qua, che se no... Voto molto bello, un bel... Dieci. No, poi adesso, nove meno. Nove meno. Dieci. Chi ne sono dei migliori, che ti regalerò io. Adesso passiamo al prossimo. No, sto così, così, dopo mi cambio, così. Perché se no... Sì, ma prezzo? 11 mi sembra. 11 euro, boh, ci sta. Bon, boh. Non mi ricordo. Dai, non serve più, dai, un secondo. Rifacciamo. Prezzo? Penso 11. Bon, boh, dai, 11 euro ci sta. Prostimo. Ah, di Shane è anche questo? No, ma... Cosa è sta roba? Ah, è la zottina. Per andare in palestra. Ma che palestra. Sembrava, vabbè. Ma è finita questa cosa. Ok, raga, questa è bella. Adesso ve la facciamo vedere bene. Questa è più attillata... Beh, bella, bella, devo dire. Questa quanto è costata? Sembra sempre dieci, undici. Boh, questa è bella come l'altra, ma forse è un po' più bella dal punto di vista... Cioè, attillata. Fa vedere bene le forme, eccetera. Un bel nove, un po' di più dell'altra, dai. Passiamo all'ultimo pacco. Andate a cartare, dammelo subito. Cos'è? Una comperta? È il vestito. Ah, quello del concerto? Sì. Boh, questo qua è il davanti, ma è tutto nero, quindi non si capisce niente, quindi andiamo a provarlo. Ragazzi, purtroppo, eccola di nuovo qui. No, è di nuovo... Shadap. Shadap? Cosa vuol dire? Shadap? Stai zitto. Brava. Una roba la sa l'inglese. Quanto abbiamo in... Oh, ragazzi, primo anno che ho sei in inglese. Oh, bravo! Grazie, grazie, grazie. Vabbè, se te lo dici da solo, guarda, siamo messi proprio a livelli... No, no, ci sono gli effetti sonori che mi hanno fatto gli applausi. Eh, certo, nel mondo dei palazzi. Ringraziamo il pubblico per gli applausi, grazie. Sì, sì. Bello, però non mi piace come le cade. In che senso? Qua? Boh, adesso ne parliamo. Allora, intanto quanto è costato? Sempre sugli undici. Per essere sugli undici non è male, però a te non cade benissimo come gli altri due. No, no, ok. Perché non è proprio attillato, si vede che non è forse della tua misura. No, è una S. Sì? Cosa dobbiamo prendere? XS. Aspetta, allarga il braccio. Diciamo che è un po' particolare rispetto agli altri due, è un po' più diverso, un po' più strano. Quindi un sette e mezzo... Sì, sette e mezzo, sette e mezzo. Non c'è stata. Ragazzi, abbiamo provato tutte queste robe di Shane, non ne posso più. La prossima volta, se faccio qualche ordine io, vi faccio vedere le mie robe che sono più interessanti, ragazzi. No, certo. Poi se ordina le cose a lui, magari li vanno stragrandi, perché non stanno le misure. Ma a me va bene tutto. Io so. Anche le felpe grandi mi va bene. Eh, sì. Sì, sì. I pantaloni no. Beh, quindi vabbè. Quindi lasciate un commento. Arriviamo a 30 like per il prossimo episodio di Shane, Amazon e tutto quanto, e temo e bla bla bla. E dite se vi sono piaciuti i miei vestiti che sono stupendi. E le tute anche le mie cose tipo cestino, quello che mi spruzzo i brillantini. E poi anche il passer della musica, il mio preferito. Miracolo che sei ricordata, perché ho la memoria di Doris, figurati. Non di Doris, di Dori. Di Gori. Quella di Nemo, raga. Quella di Nemo, sì. Guardate il film, che bello. Sì, Nemo è il paese delle Mellaviglie, intendi. Sicuramente. Ok. Quindi lasciate 30 like per il prossimo episodio e ci vediamo a un prossimo video. Ciao. Ciao, ciao. Ciao.